Un ragazzo di 12 anni è tragicamente deceduto nella notte tra domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio presso l'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone. L'adolescente, residente con la sua famiglia nella contrada Tufano, ha iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato una pizza con i genitori. Portato inizialmente in ospedale è stato dimesso e riportato a casa, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, portandoli infine al decesso. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte del giovane. Si sta cercando di capire se si sia trattato di una tragica fatalità o se il decesso poteva essere evitato. Saranno fondamentali i risultati degli esami autoptici per determinare con esattezza le cause della morte per fornire maggiori dettagli sull'accaduto. Purtroppo al momento del suo arrivo al pronto soccorso dello Spaziani i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Restano ancora molti interrogativi su cosa abbia provocato il malore e il successivo decesso del ragazzo. Grazie a tutti.